Salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video spiego come disabilitare per sempre la notifica del caps lock la maiuscola che quando andate ad attivare il tasto esce questa notifica ovviamente può darvi un grande fastidio quindi con questi tre metodi potrei risolvere senza nessun problema quindi iniziamo prima con il primo metodo quindi andiamo un attimo sul nostro pannello di controllo qui vai a scrivere access modifica funzionamento della tastiera ed eccolo qua digitazione facilitata togli le spunte qua sopra attiva segnali acustici oppure la notifica la togli qua una volta fatto fai ok e basta come secondo metodo andiamo direttamente sulle nostre applicazioni installazione applicazioni e cerchi così l'applicazione hp per quelli che usano i portatili hp di disinstallare l'applicazione e disattiverà per sempre quella notifica se non dovesse funzionare puoi sempre usare l'applicazione logi option più l'applicazione per collegare così i dispositivi della tastiera attraverso bluetooth e wireless vai su impostazioni andi fino a giù fino a trovare notifiche bloc maiusco numero blocco blocco e togli questo e questo era il terzo metodo se avete altri problemi in alto a destra c'è un'altra guida dove spiego come disabilitare la notifica del bloc maiusco sulla tastiera del caps lock quindi iscriviti lascia like per altri problemi ancora commenta sotto al video ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao